Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube David Caleo Gossip, dove vi racconto tutto quello che c'è da sapere sul mondo dei VIP e delle star. Se vi piace il gossip iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere nessun video. Oggi vi parlerò di... Rosalinda Cannavo è nata a Messina il 26 novembre 1994, sotto il segno del Sagittario. Ha una sorella maggiore di 8 anni e i suoi genitori sono un macellaio e una casalinga. Alla prima Da piccola sognava di fare la ballerina, ma ha dovuto smettere per colpa della scoliosi. Si è avvicinata alla recitazione a 14 anni e ha frequentato un corso di dizione per eliminare il suo accento siciliano. Si è iscritta anche alla facoltà di psicologia. Al quadrato Ha debuttato in televisione nel 2012 con lo pseudonimo di Adua del Vesco, che riprendeva il nome di una protagonista di una miniserie del 2005. Ha scelto questo nome perché le piaceva il significato di «acqua del bosco». Alla prima al cubo Ha recitato in diverse fiction di successo, tra cui l'onore e il rispetto, il peccato e la vergogna, Rodolfo Valentino, la leggenda, furore, non è stato mio figlio e il bello delle donne, da alcuni anni dopo. Ha debuttato al cinema nel 2014 con il film Sapore di te di Carlo Vanzine e nel 2018 ha interpretato una giovane Veronica Lario nel film loro di Paolo Sorrentino. Alla prima Nel 2016 ha iniziato la sua carriera musicale con i singoli Magico e Non C'è Sole. Nel 2018 ha lanciato il brano 666, scritto da Teodosio Losito, e nel 2022 ha pubblicato il suo nuovo singolo Sempre Avanti, con l'etichetta indipendente QM Music di Demis Facchinetti. Alla prima Nel 2020 e nel 2021 è stata una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini. Durante il reality ha deciso di rinunciare al suo nome d'arte e tornare a farsi chiamare col suo vero nome Rosalinda Cannavò. Si è classificata settima, venendo eliminata durante la semifinale. Alla prima al quadrato Nel reality ha conosciuto Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere Walter Zenga e della modella Roberta Termali, con cui ha iniziato una relazione sentimentale che dura ancora oggi. I due vivono insieme a Milano e hanno un cane di nome Leo. Nel 2021 ha partecipato alla Milano Fashion Week, sfilando per Impero Couture Anuali, marchi di cui è testimonial. Ha anche debuttato come conduttrice del programma Casa Key, in onda su Mediaset Infinity e Instagram. Rosalinda Cannavò ha sofferto di anoressia per diversi anni, arrivando a pesare solo 38 chili. Ha raccontato la sua battaglia contro il disturbo alimentare nel suo libro autobiografico La vita è facile ad occhi chiusi, pubblicato nel 2017. Nel libro ha anche rivelato di aver subito abusi sessuali da parte di un parente quando aveva solo 5 anni. Questo è tutto per oggi, spero che vi sia piaciuto il mio video e che abbiate scoperto qualcosa di nuovo sul mondo dei VIP e delle star. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e condividete il video con i vostri amici. E non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per non perdere nessun video. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!